Pierferdi sta festeggiando il trionfo della neogovernatrice Polverini. D'un tratto... ...una pressione da tergolo fa sussultare. Sai, l'importante è avere le distanze di sicurezza. Che risate! E vista l'ilarità il bel Casini insiste nell'allusione. Perché qui, sai, visti sti tempi... ...vi spingono dietro. E adesso, sì, ma ti spingono dietro e tu spingi avanti. Per Ludicino, quella della retroattività non è un problema nuovo. Se n'era già lamentato. Scusa, Ponteleone, ti puoi un po' perché, sai, sento... ...sento una certa pressione sul... ...eh, va bene, dai. Sulla dietrologia il Pierferdi è molto sensibile e in ascensore affollato si sa il rischio è alto. Sì, è una gran posizione per me. Per Casini il bagagliaio è un assillo continuo e lo ripete senza mezzi termini. Mi ha dato un colpo, uno che... Ma sono allergico e colpi di dietro. Dicevi... Dicevi... ...dicevi... ...dicevi... ...questa risposta... ...di prendere il meno possibile, anche se sai... E l'onorevole Sala e Pepe si lamenta pure con la stampa. Ma ragazzi, potete non starmi appiccicati così dietro? Di dietro poi mi piace essere un po' libero. Del resto il grande centro fa gol a tanti. Allora Casini, per rendersi ancora più desiderabile dovrebbe cambiare look. Ecco, conciato così Pierferdi può fondare un partito da fare invidia a Berlusconi. Il popò della libertà.